Quanto potrebbe costare? Il mio è Paolo Di Bala Fatemi sapere il vostro qui sotto nei commenti Ma ora chiamo a Evaletta Uno schiocco di rigida raga Zia da Bù che ci porta La maglia Juventus Per cui ci prego regga il pallone Che bomba è questa maglia È una bomba fatale proprio Adesso ve la farò vedere nei dettagli rapidamente Gli vuoi dire il contest? Ah sì giustamente Mi sono scordato di ricordarvi raga Che faremo un contest di questa maglietta Il mio profilo Instagram Però per partecipare cosa dovete fare? Essere iscritti entrambi ai canali Aver seguito entrambi su Instagram Chiocciola Riccardo Dalotti E chiocciola ZAV.Jackson Già quindi vi avrò fatto comparire schermate Qualcosa avrò fatto Andateci a seguire per partecipare al contest E scriveteci nei direct fatto Una volta l'avete fatto Sorteggeremo un vincitore Che vincerà questa maglietta Quindi faremo vedere il video appunto Del vincitore su Instagram Sul suo Instagram Quindi seguiteci così almeno Capirete se avrete vinto o meno Ok regga Questa è la maglia vista da vicino Adesso la farò vedere in tutto il suo splendore Partiamo dal colletto Che c'è la classica striscia oro della Juventus E le classiche strisce rosse e verde tipiche di Gucci Poi ci abbiamo ricamate le tre strisce dell'Adidas Che è lo sponsor della Juventus Per chi non lo sapesse Poi ci abbiamo il mega striscione centrale Con lo sponsor Jeep E poi scudetto della Juventus Tutto in verde Ricamo dell'Adidas Tutto in verde E poi raga La texture con le G Guardate Ovviamente Scrivetemi qui sotto in un commento Ma secondo voi Quanto costa questa maglietta? Quanto potrebbe costare? Io vi sottolineo che questa maglietta è fake raga L'abbiamo trovata su internet Quindi non è originale Non è proprio della Juventus Che è stata fatta Un'edizione limitata È proprio fake raga È una cinesata Che abbiamo trovato su internet Però era troppo bella Ve la volevo far troppo vedere E quindi Questo qui è il risultato Di questi esperimenti cinesi Ora l'andremo a provare raga E poi Andremo a sfidare Io ti provo questa cosa Quel personaggio Tu con la maglia di Gucci E io con la maglia della Juve del 2020 Dribbling skills challenge Io contro di te Uno contro uno Accetti? No Regà Quanto ice addosso Da 1 a 10 Scrivetelo qui sotto Mi raccomando Andiamo a sfidare In questa sfida a dribbling La maglia della Juve 2020 E quel pollastro DZAV Jackson Anzi Scrivete qui sotto pure Chi vince tra noi due Ragazzi Io sono pronto Maglia della Juve 2020 E non è che fai tanto il figo Sto pollastro Ma vediamo Ma vediamo chi vince Ti sto aspettando 5 dribbling a testa Vediamo chi vince Inizio io? Vai inizio io Andiamo regà Andiamo a skillare Non lo so cosa ho fatto Non lo so cosa ho fatto Ma la palla è entrata in porta No l'ho spazzata Eh no L'ha buttata in porta Ah vabbè vai Cosa cazzo mi stavo facendo? Oh mio dio Cosa gli stavo facendo? Ma che cazzo Sono inciampato Cazzo Ma perché io faccio Io faccio le skill di FIFA Capite? Fare le skill di FIFA Comporta Un determinato rischio C'ho il piatone Com'è possibile Questa cosa? Ma mi racconto Che io sono stanco Eh La prossima scusa Rai Subito dentro Cucci Mi racconto Che io sono stanco Ma vale? Oh 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 Vai Oh Oh Lo sto regattato Dribblandomi Con dei dribbling Dove te la buttavi lì Io ero morto E tu Ancora correvi Sappi che Voglio la rivincita Sappi Promesso Quando riprenderò fiato Prossima maglia Famo la rivincita Quest'anno Ti spacco Ti spacco la testa Ragazzi Spero come sempre Questo vi sia piaciuto Un like per la mia Condizione atletica Ricordatevi il contest Ricordatevi il contest Eppure sudata da Talox Ragazzi Talox Il vostro Il vostro Il vostro Il vostro preferito Il vostro Dalotti Il pontolino Il pentolino Hashtag Se sei del pentolino Vabbè Quindi ragazzi Questo vi fa termine qui Come sempre Il vostro Ciao ragazzi Bella